Giorgia stop! Giorgia stop! Ma guarda qui, tutto il salotto pieno di giocattoli. Ma scusa, ma non potevi rimanere in camera a giocare anziché portare tutto qua giù? Eh? Dove sono tutti i miei giocattoli? Dove sono le mie carte? Amore, vieni, vieni qui a sedere, vieni amore. Piccina, non mi piani, dai. Eh, io voglio i miei giocattoli. Guarda, ti piace? Wow, sì, è super bella. Senti, cosa può fare? Ecco, certo! Capacino! Ma, comunque è molto bella, me la regali? No, non posso, però, guarda, cosa ti posso regalare? Guarda ragazzi, veramente, c'è il casino delle accessorie di Barbie. Ti posso regalare questo, ops, un barbecue tutto tuo. Ok, questo è fatto, questo è giusto. Va bene. Brava! No, questo non va bene, questo non va bene. Giorgia! Giorgia, che stai facendo? Eh, babbo, sta giocando. Eh, lo vedo che sta giocando. Se tu può, mentre stavo rovistando tra le tue cose, per vedere se a scuola è andato tutto bene, in mezzo al quaderno ho trovato questo. C'è scritto due. Perché hai preso questo due? Perché non sapevo le risposte, babbo. Per forza, perché stai sempre a giocare, anziché studiare. E poi sono questi i risultati. Giorgia, mi stai veramente stufando. E poi, guarda la camera, in che condizioni sta. Ora, Giorgia, ti chiedo di sistemare, perché non si può guardare la tua camera. Non c'è neanche il letto fatto. Quindi, sistema e poi incomincia a studiare, per favore, ok? Va bene, babbo. Sistemerò. Forse. Un patino, yeah! Giorgia, stop! Giorgia, stop! Giorgia, stop! Ma guarda qui, tutti i salotti pieni di giocate. Ma scusa, ma non potevi rimanere in camera a giocare, anziché portare tutto qua giù, eh? No, babbo, perché almeno qua giù c'avevo compagnia. Oh, Giorgia, questa compagnia, guarda che cosa ha combinato. In ogni caso, sistema tutto e batte a fare il bagno. No, babbo, non c'ho voglia di farmi la doccia. Non ti preoccupare, la faccio dopo, però ora non c'ho voglia. Voglio giocare ancora. Sì, però, per favore, Giorgia, sistema. Ci sono troppe giocattoli in giro. Incomincia a odiarli, eh? Mammina, come sei? Ok, ora sistemo dopo. Cinzia, se tu puoi, dov'è Giorgia? Prima era andata giù a giocare, sicuramente ancora giù. Ma come ancora giocare? Ma scusa, ma gli avevo chiesto di sistemare e di farsi la doccia. Io non l'ho vista farsi la doccia, è comunque sicuramente giù. Ok, vado. Giorgia, sei qua giù? È qui, babbo. Giorgia, anche qui, guarda quanti giocattoli ci sono al giro. Ma può essere che dove vado vado ci sono solo giocattoli al giro. Scusami, l'hai fatta la doccia? Sì. E invece la mamma mi ha detto che ancora la doccia non l'hai fatta, quindi sei anche bugiata. Senti, Giorgia, però adesso è l'ora della merenda. Che fai, la facciamo? Eh, no, babbo, voglio di giocare. E poi non c'ho nemmeno fame. Ho mangiato tantissimo a pranzo. Ora mi voglio solamente divertire con i miei giocattoli. Ragazzi, è incredibile. Giorgia con questi giocattoli ha smesso di fare tutto. Non fa i compiti, come avete visto, non è andato a fare la doccia. Non vuole neanche fare merenda. Sta 24 ore su 24 a giocare con questi giocattoli. La colpa, però, è nostra perché gli abbiamo comprato tutti questi giocattoli. Devo trovare una soluzione per fargli fare altro. Però il problema è che con quei giocattoli sempre intorno, lei non farà altro che giocare. Devo trovare una soluzione. Il problema è che se gli ributto, non mi parlerà per una settimana, come è successo nell'ultimo video. Anzi, se non l'avete fatto, andatelo a vedere. Che per una settimana non mi ha parlato, quindi non gliele posso buttare. Devo trovare una soluzione per fargliele sparire senza che capisca che sono stato io. Ma che cosa posso fare? Mi è venuta un'idea. Il problema è che non so come metterla in atto. Cosa posso fare? Salvo! Sì? Senti, io e Giorgia bisogna uscire un attimo perché gli serve un quaderno per la scuola e bisogna andare a comprarlo. Te che fai? Vieni con noi? Ah, uscite? No, no, no. Io rimango qui, cioè nel senso vado a lavare la macchina così esco anche io un po' di casa. Ok? Ok, allora noi andiamo. A dopo! Ciao! Sì, sono andati via. Adesso posso mettere in atto l'idea che ho avuto prima. Voi lasciate un like e continuate a seguirci per vedere che cosa andrò a combinare. Perfetto, ragazzi. Sono pronto per attuare il mio piano. Un po' smette. Ok. Ok. Così non farà più rumori con questa roba. E' questa. Oh! Quanta roba! Ok, finito. Ragazzi, avete capito che cosa ho fatto? Farò credere a tutti che è entrato un ladro a rubare tutti i giocattoli di Giorgia. Così non avendo neanche un gioco, magari farà qualcosa di più intelligente. Sono veramente un genio. E se lo pensate anche voi, lasciate un bel like. Ah! Ah! Eh, mamma, io vado a giocare, ciao! Che fretta ho di giocare! Ma dove sono tutti i miei giocattoli? Dove sono le mie carte? Mamma, 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 mamma! Che c'è, Giorgia? In solito non ci sono né le mie carte, né la mia macchina del caffè, né il frullatore, non c'è nulla! Dove sono tutti i miei giocattoli? L'avrà rimesso a posto il babbo? Eh? Aspetta che lo chiamo. Salvo! Sì, che c'è? Hai portato se tutti i giocattoli di Giorgia in camera? Eh, no, in realtà io non ho toccato niente, anche perché ero andato fuori a lavare la macchina, eh. Giorgia, allora vai a vedere in camera, magari l'hai sistemato e non te lo ricordi, no? Mamma, sono sicura, io i giocattoli li avevo lasciati qui, però non si sa mai, vado a controllare. Ma, questi erano tutti i miei giocattoli! Qua c'è la casa di Barbie, c'erano tutti i miei barbie, i miei accessori! Ma dove sono tutti i miei giocattoli? Ma soprattutto, chi me li ha toccati? Chi me li ha nascosti? Sono tanto affezionata ai miei giocattoli, così non va bene! Oh, no, non è giusto, sì, mamma! Amore, che succede? Sono andata a controllare su, allora, i giocattoli, quelli che... Non ce l'hanno giocattoli, nemmeno quelli che avevo lasciato su! Mmm, la cosa è strana, hai provato ad andare a vedere giù, magari sono tutti giù! No, secondo me non ci sono nemmeno lì, li avevo lasciati insalati in camera e tutti sono scomparsi, vado a controllare! Non mi saranno tutti i miei amati giocattoli! Ecco, lo sapevo, anche qui non ci sono i miei giocattoli! C'è la mia macchinina, le altre mie macchine, la bambola! Qua c'è la grotta! Mamma! Mamma! Nemmeno giù ci sono i miei giocattoli! Sono scomparsi tutti i miei giocattoli, non ne è rimasto nemmeno uno! Ma che fine possono aver fatto? Io non capisco! Salvo, te ne sai qualcosa? Eh, no, che devo sapere io? Io ero fuori a lavare la macchina e che c'entro io? Cioè nel senso io? No, 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 non ne so nulla io! Allora è stato un ladro! Brava! Forse... no, sì, bu, sì, 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 forse è stato un ladro! Allora, se è entrato un ladro, controlliamo le telecamere di sorveglianza! Le camere di sorveglianza? No! E tanto se c'è stato un ladro, come fai a riconoscerlo? Eh, che li controlla a fare? Non ce n'è neanche bisogno, no? No, che sì, cioè va bene c'è stato il ladro, però controlliamo perché comunque magari da qualche particolare si capisce chi è, no? Sì, sì, mamma, ti prego, andiamo! Andiamo! Eh, spero che non capiranno nulla! Ero tutto vestito di nero, avevo anche passamontagna, quindi sicuramente non capiranno che sono stato io! Arrivo! Arrivo anch'io! Vediamo! Da dove partiamo? Salotto! Eh, salotto sì! Ecco! Guarda! Eh, ma quello è l'altro che sta prendendo la mia macchina per rinforzare! Dai, amore, non mi piangere! Vediamo, vediamo in camera! Guarda, mi sta prendendo la casa di Barbie! Mi dispiace! Controlliamo di sotto! Oh, aspetta! Guarda! Che devo guardare? Con questo fisico, questa forma, mi assomiglia a qualcuno, ma non riesco a capire che... Ma come vai a capire che mi assomiglia a qualcuno? Eeeh, tutto vestito di nero! Giorgia, che dici te? Assomiglia a qualcuno? Mmm, sì, è vero, in effetti anche a me assomiglia a qualcuno, vero, mamma? Ma che dite? È un lato, si vede che un lato è entrato in casa e ha preso tutti i giocattoli, eh! Ma sì, però è proprio la sagoma! Vabbè, ci devo pensare, continuiamo a vedere... Oh, guarda! Quando la vedo così piangere, ecco, anche lei però è saggia con questi giocattoli! Eh, avrei un'altra soluzione! Magari mentre sono su, prendo i giocattoli e li rimetto a posto! Magari penserà che è stato solo un brutto sogno! Meglio che mi muova! Amore, vieni, vieni qui a sedere, vieni amore, piccina, non piangere, dai! Io poi ci piace i giocattoli! Eh, c'ha ragione amore, ma dai ora fra un po' arriva Natale, li ricompriamo tutti, uno per uno... Mamma, io li voglio uguali, perché ero tanto affezionata! Ah, lo so amore, proviamo a chiederle a Babbo Natale, eh! Magari te li porta lui! Mamma, piccolino, quanto mi dispiace, da in qualche modo faremo! Ok, ragazzi, così tanto non mi riconosceranno mai, ho rimettuto la roba a posto e abbiamo risolto il problema! Giorgia, hai sentito? Sì! Sembravano rumori di giocattoli! È vero, andiamo a vedere! Andiamo a controllare! Mamma, non è che è tornato il ladro? Ma no, Giorgia, non può essere, c'era il Babbo giù! Però andiamo a vedere! Salvo, Salvo, dove sei? Mamma, qual è la mia casa di Barbie? Eppure mamma, la casa lì non c'era prima! È vero, Giorgia, sta succedendo qualcosa! Mamma, e quel qualcosa è anche molto strano! Ragazzi, qui c'è un problema, se scopo che sono stato io e sono guai, è meglio che chiude che è meglio! Hai sentito, Giorgia? Sì, mamma, ho sentito, veniva da là! Andiamo! Giorgia, c'è qualcuno dietro la tenda! Sì, è vero! Prendi la scopa! Presto! Stai dietro di me! È qui! Giorgia, togli il passamontagna, vediamo chi è! No, no, no! Sì! No, no, no! Ma, eh... Babbo? Sì? Che ci facevi col passamontagna? E cosa ci facevi dietro la tenda? E poi perché sei vestito dal ladro? Ai, 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 ve lo posso spiegare dopo, magari mi prendete del ghiaccio per la testa! Babbo, ora mi devi spiegare perché sei vestito dal ladro e che ci facevi dietro a quella tenda? Non è che siete il ladro dei giocattoli? Ok, ragazzi, confesso! E in realtà è colpa tua perché tu stai tutta la giornata dietro a questi giocattoli, non fai i compiti, non ti fai la doccia, non vai neanche a mangiare! E quindi ho pensato di prendere i giocattoli e farti credere che te li avevano rubati! A meno così potevi fare altro! E invece mi sa che è stata una brutta idea, è vero? Beh, direi una brutta idea, ci sono rimasta malissimo! La stessa cosa l'hai fatta anche l'altra volta, l'altra volta me li avevi buttati, ora hai fatto finta che un ladro me li aveva rubati! Sei cattivo, non ti voglio più parlare per una settimana, anzi, per un mese, non ti voglio più vedere! Ai, ai, mi sa che l'ho combinata grossa questa volta! Salvo, sì che l'hai combinata grossa, sei sempre il solito, peggio di te, sono i bambini più piccolini, io non lo so, guarda, ora trova un modo per fare pace con Giorgia, per favore, e sistema questa situazione, direi imbarazzante! Ok, sono nei guai, lo sapevano, ma anche queste idee strane che mi vengono in testa, ma ragazzi, allora, se voi avete dei suggerimenti, scrivete qualcosa nei commenti, così mi aiutate a fare pace con Giorgia, perché ora di sicuro non mi vuole parlare come l'ultima volta! E io direi di salutarvi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campagna degli aggiornamenti, e se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale! E io, dolorante, con la testa che mi fa male tantissimo, vi saluto con un grande wow! E ora che faccio? Giorgia! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Noi siamo Salve, Giorgia, wow! Di video è sempre una pioggia! Con mamma ci inseguante ne combiniamo, tra giochi e risate, sai che ci divertiamo? Tanto divertimento, ma che casino! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4!